Di Castello di Ori, ha chiuso il pubblico da anni e di proprietà privata, non si parla soltanto d'Ori, anche importanti associazioni nazionali come Italia Nostra e Istituto Italiano dei Castelli si sono interessate al caso e hanno scritto tanto al Ministero della Cultura quanto alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce. In particolare l'Istituto Italiano dei Castelli ha chiesto alla Soprintendenza di vigilare per la salvaguardia storico, culturale e sociale del monumento affinché non sia destinato ad usi non compatibili e tali da pregiudicarne la pubblica fruizione. La Soprintendenza ha risposto in modo anche piuttosto secco dicendo che al momento non è giunta alcuna richiesta di cambio di destinazione d'uso e che nel caso giungesse in seguito sarebbe esaminata con la scrupolosità e l'attenzione che il caso richiede ai sensi della normativa vigente. Tanto l'amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Maria Lucia Carone continua a lavorare su una convenzione con la proprietà nei giorni scorsi oggetto delle attenzioni della senatrice Margherita Corradi che chiede come l'Associazione Italia Nostra l'avvio del procedimento per la dichiarazione del castello come di interesse eccezionale così come previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio.